Nella Milano che conviene c'è Parabiago, la città della calzatura. Scopriamola insieme. Perché scegliere le scarpe di Parabiago? Da tanto tempo abbiamo scelto di fare dei piccoli numeri dove si può ancora curare la qualità, la manualità del prodotto. Non facciamo delle grandi quantità e questo ci ha messo in una nicchia di Luxury Show che in questo momento, malgrado la crisi, tiene ancora. Parabiago da sempre è uno dei distretti di eccellenza della calzatura nazionale. Qui hanno sede le aziende più importanti d'Italia e non solo. Perché acquistare negli spacci di Parabiago? Si acquista della grande qualità a un prezzo conveniente. Poi per gli appassionati dello shopping è particolarmente divertente andare a frugare tra gli scaffali perché si trovano anche delle vere e proprie occasioni. Quindi c'è un ventaglio tale che vale veramente la pena di fare un giro. Chi produce qui a Parabiago? Sono le firme più importanti al mondo nel settore moda. Un livello di manodopera molto elevato che è il grande vantaggio anche portato in un periodo non facile alle aperture di nuove aziende piccole, artigiani, che fanno dei terzisti per delle fabbriche, delle grandi firme. Oggi per stilisti anche di seconda fila è importante avere fabbriche che sono in grado a realizzare dei prodotti che in pochi sanno fare. L'offerta per cazzature femminili specialmente è vastissima. Ovviamente Parabiago è diventato un must lombardo dello shopping, specialmente al sabato c'è tantissima gente che viene a trovarci. Vi aspettiamo a Parabiago per scoprire la nostra qualità, le nostre eccellenze. La Milano che conviene ti aspetta a Parabiago. Vivila!